Musica Salve a tutti ragazzi e bentornati qua in questo nuovo appuntamento con Supercard ragazzi Siamo in questo Flash Ring Domination Questa sera andremo a farci un po' di cose Questa sera voglio completare anche la missione di Alexa Bliss Perché manca veramente pochissimo Due vittorie con lei E ci porteremo a casa questo premio Allora vorrei andare prima di prendere otteno in ripristino Quindi riprendere il tabellino del draft e 40 ripristini Dove nel pacchetto c'è la possibilità di prendere un Alexa Bliss Limited Edition Mentre per chi è di livello Wrestling Mania nel pacchetto Che prendi completando tutta la missione c'è sicuramente un Alexa Bliss Quindi ragazzi potenzialmente se hai un sedere grande Potresti già farti la pro in questa missione E non dovresti shoppare Credo sia strano perché il gioco ti permette di fare una cosa del genere Ma insomma non si sa mai Quindi io direi di completare comunque tutta la missione Ci serve due vittorie con Scegli me e vinci un incontro usando carta Alexa Bliss E ragazzi è easy Basta utilizzare anche una carta Alexa Bliss O due Insomma quelle che avete in Royal Rumble E il gioco è fatto in poissimo tempo T50 te le fai easy proprio L'unica cosa un po' più difficile Che è un po' più duratura È fare le pro perfette dell'Alexa Bliss Ma dopo vi faccio vedere comunque non è neanche troppo difficile Basta avere quelle di minimo livello Che sono quelle neon Che se ne trovano insomma abbastanza spesso Non sono troppo rare quindi si possa fare E quindi si andiamo a prendere prima il pacchetto Questo qua dove all'interno prendiamo l'Alexa Bliss E dopo spacchetteremo quello sotto con 40 ripristini Per vedere se troveremo la seconda copia E chissà ragazzoli chissà Poi abbiamo comunque 70 card in draft board Vediamo se un po' questa sera troveremo finalmente un reset portentoso Intanto raga direi di prenderci questo pacchetto gratuito Poi andremo anche in evento Andremo a giocarci la carta Vrestling 27 di Andre the Giant Ci mancano chiaramente 4-5 shard La completiamo e per me posso anche considerare concluso questo evento Non vado neanche oltre Non mi interessa Kozuma Tanto non lo prendo alla Rotoglore Secondo pacchetto per noi Oh yeah Allora ragazzoli Comunque ci siamo portati avanti in questo evento Ho ottenuto la carta come ho detto prima Sì come ho detto prima non l'ho detto ma l'ho considerato Ho portato a casa la carta Royal Rumble 21 di Walter Che è pro Potrei farla Non lo avrei per scontato Però quello che mi interessa è comunque portare a casa questa carta Vrestling 27 Per completare questo evento Potrei anche andare oltre e tentare anche per Yokozuna Ma quanto mi ho detto prima E la Rotoglore che anche se in flash Comunque non Non mi va di portarla fino a un fondo Quindi giocherò il giusto Quindi concludo qua questo evento E andrò avanti in altre cose Magari Che ne so adesso abbiamo quanto? 152 ticket Mercoledì c'è l'aggiornamento per nuovo tier Quindi magari porterò avanti un po' di ticket Per cercare di spacchettare il più possibile Non so quando registrerò Se il mercoledì sera direttamente Se l'aggiornamento durerà poco Oppure giovedì viene Insomma quando capita Vabbè E niente ragazzi Direi andare direttamente in evento E concludiamo Ragazzi comunque Comunque se volete Potete utilizzare anche le carte supporto Scala che trovate anche con 600 supergettoni Nello shop Nello store supergettoni E ovviamente essendoci in questo evento È utile utilizzarli in questo evento Visto che puoi utilizzare due supporti a volta Però Dovete fare questa cosa Altrimenti non ve lo conta Perché come dice anche nella missione Dovete utilizzarlo e vincere il match Quindi Dovrete utilizzare Perché magari c'è qualcuno che sbaglia E dice Non mi conta il Cioè non mi fa il conteggio della scala Quindi vabbè Continua e continua Niente Praticamente Se dovete fare una serie del genere Non dovete mai scegliere La carta supporto E poi mettere la carta nel mezzo Dovete mettere la carta supporto Ho sbagliato Perché me l'ha messa Mannaggia Però Funziona Quando te vai ad attaccare la carta Quindi Altrimenti non funziona Per esempio Questa kill Ormai è andata persa Ma io devo fare così Scegliere la carta E andare ad attaccare Questa In questo modo mi conta La carta del supporto Altrimenti È come se lo utilizzassi a vuoto Perché la missione dice Specificatamente Che devo vincere il match Con la carta supporto E niente regà Questo è il nostro Resor Ramon Che sta continuando Purtroppo non ho preso Il secondo Perché sto stronzo Non ho giocato La scorsa settimana Sono rimasto lead Nello scorso video Quindi va bene Quindi abbiamo Un solo slot Che è rimasto Del nostro big E E va bene così Bravo crisis Ma va bene Tanto più o meno Il livello comunque È sempre rimasto quello Non ci interessa Quindi va bene Dai andiamo a vincere Questo match Prendiamoci anche Andre the giant E Press through All the Alexa Sì sì Te lo faccio Stasera la completo Non ti preoccupare Gioco Puoi notificare Quello che vuoi Stasera è completo Alexa Bliss È una delle missioni Più easy Indi per cui Completiamo Andre the giant Signori 26 shards Sono più che sufficienti Eccolo Walter E vabbè Dai a me almeno Una breastline 37 Dai Tony storm Ok E vabbè Dai 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 Ok ora Una dopo l'altra Cesaro Dammi anche questa Oh perfetto ragazzi Lo spacchettamento Perfetto Un'altra volta Wow And the last one Ok Andre the giant È il nostro Altra carta Press the main 37 Yes Io la blocco E va bene Ok raga Direi che Ci siamo Per completare Ovviamente La missione Alexa Bliss Direi di andare Nell'evento più easy Che c'è E andare direttamente In Royal Rumble Perché no Qui Questo è il deck Che sto utilizzando Le due Alexa Bliss Più forti che ho Più o meno Cioè Ce l'ho anche più forti Ma comunque di Potenza equilibrata In modo da vincere Abbastanza bene Questo tipo di incontro Ho utilizzato le due Alexa Bliss Che ho in Royal Rumble Che una Già ce l'avevo Una l'ho trovata Quindi insomma Abbastanza Abbastanza culo Diciamo pure così E niente Questo è il deck E noi abbiamo la ricerca Così BAM Dopo andremo comunque A farci anche Le cinque Pro perfette Perché ho Questa Alexa Bliss Che avete visto Ma ho anche Altre quattro Forse anche cinque Alexa Bliss Di livello neon Quindi già allenate Quindi andremo direttamente A fare la pro E completiamo Tutte quante le missioni Quindi ragazzi Stasera easy Proprio Camminiamo Tranquilli Quando ci sono Le missioni Come ci è successo Anche tempo fa Con il super pass Che diceva Di utilizzare appunto Una tipologia di carte E vincere Con quel tipo di carta O con proprio Quel personaggio La cosa migliore È utilizzarla Qui nella Nella Rumble O femminile O maschile A seconda della carta La devi utilizzare Perché ogni volta Che tu utilizzi la carta Considera un match Quindi è È la miglior cosa Per allenare la carta Livellarla Proprio In incontri Ed anche la miglior cosa Per utilizzare Questi tipi di match Questi tipi di Di missioni Ragazzi È la cosa più easy Tanto sono sicuro Che almeno Un match Lo vinco Perché se non lo vinco Utilizzo anche la super mossa E vedrà che vinco E che cavolo Però mi basta Vinci che due match Con Alex Bliss Anche C'erano due di Alex Ecco la sta arrivando La prossima carta è lei Anche se ne vinco Una e una Con tutte e due Alex Bliss Mi da conto lo stesso Quindi va bene Ma sempre bene Quindi il prossimo incontro Vediamo un attimo Ok Ancora Natalia È sua Ma io adesso metto Alex Bliss E ti apro Due proprio confini E mi porto a casa La prima vittoria Questa Questa conta come una vittoria Oh yeah E se non lo contasse E lo conta adesso Perché ti metto una resistenza E tu prova a battermi Ce l'hai? T'azzardare Guarda Ti prendo dentro nel gioco Ti mangio vivo No Ok Perfetto Ok Potenzialmente Abbiamo già fatto le due vittorie Abbiamo già completato la missione Abbiamo anche la seconda Alex Bliss Di supporto Quindi appena E se Perderemo il match Metteremo la seconda Alex Bliss E le faremo vedere Di che passa siamo fatti Andiamo a vincere Questa Royal Rumble Mattonda Dai 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 L'importante è non mettere Velocità troppe volte Perché stiamo scalando Troppi punti in velocità Anche se abbiamo 270k Ma insomma Dai 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 Andiamo di nuovo In resistenza Manca realmente Pochi match Altri 3 match al termine E abbiamo concluso Questo Tutto quanto l'evento Alexa Bliss Resta Se la facciamo La pro di Alexa Bliss Qui era Il zelirio Più totale Io non lo so Se ci riuscirò Potenzialmente Potrei trovarla Anche in altri modi Shoppando Ma non mi interessa Shoppare Io voglio farcela Con il minimo Sforzo Comunque lo sforzo C'è Perché giochi Da mattina alla sera Comunque lo sforzo C'è Dai Alexa E Alexa Potenzialmente Dovremmo aver vinto Ad ogni modo Ok Yes 9 a 5 Abbiamo recuperato Tutto quanto E Migliore amica Di Lily Signore Abbiamo completato Tutto quanto Siamo pronti Per spacchettarci 64 Ma facciamocene subito Ma che se ne fregando Sicuramente non ce le compriremo Tutte quante Perché Mi sa che ho quasi Concluso Braun Strowman Venga Che casino Che casino Tra poco Questo gioco Cambierà nome Chissà se il prossimo anno Ci sarà ancora Questo gioco Perché onestamente Qui mi sembra Stiamo andando Un po' Peggiù Per Per lo sciacquone La WWE Mi sembra Che stia perdendo Pezzi Proprio male 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 Non so Come andrà a finire Ma Io spero Che Supercard In qualche modo Continuini Ad esserci Se non WWE Supercard Magari All Elite Supercard Qualcosa del genere Non lo so All Elite Wrestling Supercard Cambieremo il titolo Ne so Ma qui Stanno Cioè Le Superstar Stanno andando via Proprio Male male Non so cosa ne pensate voi Ma secondo me qui Covid e tutto quanto il resto Ha proprio rovinato Un business mondiale Che poi ci siamo rovinato Le nostre mani Diciamoci anche la verità Perché Sti gazzi Eh E lo sappiamo Ce la facevo Arriva in fondo Ma vabbè Spacchetteremo dopo Diamo priorità Alla missione Quindi In questo momento Andiamo a farci Le 5 pro Perfette E per perfette Lo ripeto Ancora una volta Per chi è nuovo Nel gioco Non intende Livellate Al 100% Sia come livello Sia come incontri L'importante È Livellarle Soltanto così Eccole qua Queste sono Migliaia di Alexa Che ho L'importante È Livellarle Qui Livello 75 75 Gli incontri Non importa La pro Perfetta Riesce Anche In questo Modo Quando Utilizzate Questa Missione Fate Soltanto Così Se volete Poi Allenare La carta Perché Vi serve Perché È Competitiva Allora Utilizzate Anche La carta Negli eventi Per potenziarvi Anche gli incontri Mettere Performance Center È quello Che vi Pare Ma Per il momento Quello Che ci basta È proprio Questa Quindi Sblocchiamole Tutte Una Dopo L'altra Ci servono Prendete Tutte Eh Ok Ci siamo Quindi La prima Andiamo a Sceglierne Una Ok Prima Alexa Bliss Bam Perfetta E perfetta Vi fa vedere Che appunto Non l'avevo fatta Veramente La prima Neon Alexa Bliss Pro Wow E quando Vi dice Che Cioè La carta È perfetta Non uscite Perché La stellina È dorata Se la stellina È argentata Vuol dire Che è successo Qualcosa Di marcio Che Ovviamente Mi manca Un livello Tutto Lì Combiniamo Anche Un'altra Alexa Siamo A Bam Terza Alexa Oh yeah Bam Stella Aurora per lei Quarta Alexa Andiamo Con questa E Quarta Fatta L'ultima Ragazzoli È quella Che faremo Di livello Royal Rumble Quindi Eccola qua Uno Sblocchiamo Lei E anche Lei E combiniamo Le entrambe Ma non le posso Combinare Perché stanno Nel mazzo Royal Rumble E combiniamo Anche L'ennesima Alexa Bliss Signori Siamo a 5 Su 5 Abbiamo Completato Tutta Quanta La missione Di Lily Signorini Questa sera Sicuramente Una nuova Donna Per essere 27 Andrà nel deck Facciamo un attimo Presumiamo qualcosa Per esempio Qui Abbiamo una Sonya Deville Behemoth 5 milioni e 4 Quanta differenza c'è 5 milioni e 100 Questa diventerà più forte Sicuramente una Sasha Banks E comunque è una donna normale Di livello normale Per essere la 97 Quindi potenzialmente 5 milioni e 2 5 milioni e 3 Andrà comunque Nel deck principale Ci aumenterà Leggermente Però io devo trovare Un modo per fare Almeno una Pro Ragazzi Siamo lì Se dovessi fare Alexa Pro Allora Distruggiamo Supercard Questa sera Altrimenti Niente Dovremmo aspettare Però Signori Potenzialmente avremo Una possibilità Con 150T Che sono 6 pacchetti Potremmo tentare Anche la sorte là Ma quello lo faremo Prossimamente Quando c'era un nuovo tier Adesso preoccupiamoci Di questo Andiamo a prenderci Supergettoni Per le nostre 5 Pro perfette 100 Supergettoni Ok Buono Andiamo poi a prenderci Anche i crediti Per 60 incontri Donne vinte 25 crediti Più che onesti Va benissimo Poi ci prendiamo Anche Questo pacchetto Per l'utilizzato 50 scale Nei match Allena Royal Rumble 21 Ok Ci sta Ora Scegli me Ci da una carta Supporto A me sinceramente Non mi interessa Perché ho già I supporti massimi Breast 27 Tutti e 4 parametri Quindi Boh Scala biomeccania Vedi Potenzialmente Poteva servire Anche prima Ok A questo punto Ci mancano Gli ultimi 2 pacchetti Gli ultimi 2 pacchetti Ragazzi Io andrei Prima a prendermi Questo qua Dove all'interno C'è Alexa Bliss E qui c'è Alexa Bliss Al 100% Perché Se siete di livello inferiore C'è una carta Credo O di livello Rumble 21 O breast 27 Non so quanto Come può essere Se è di rarità Minore Può pescare Un qualsiasi maggio Che non lo so Ma chi è di livello Breast 27 Avrà per forza Lei signori Alexa Bliss Yeah Fantastico Il design è wow È wow Semplicemente wow Io questa è la blocco A prescindere E questa è la nostra donna Breast 27 Per eccellenza Ma qui In questo pacchetto C'è la possibilità Di prendere anche la seconda Perché fra tutte quante le carte C'è anche lei Non lo so Se vado a prendere Alexa qua Raga Abbiamo fatto Una pro Devastante Arbacio Si dice Si va 3 2 1 Mannaggia Ci stavo quasi credendo Ci stavo presente Abbiamo Asuka Primordiale E Mannaggia te Alexa Bliss Sciame E Niense Niense Abbiamo Non dico fallito Perché comunque Una ce l'abbiamo Abbiamo portato a termine La missione E l'abbiamo presa Però purtroppo Non abbiamo fatto la pro E quello mi rode un po' Quello mi rode Potremmo Tentare per esempio Credo che Dov'è No Questo pacchetto Ma prima c'era un altro pacchetto Non so se esiste ancora Mi sa che non c'è più Eh Spero che non c'è più Forse ritornerà Non lo so Nel super negozio Forse C'era un pacchetto appunto Gli amici di Lily Ma Mi sa che ormai Nisba E No 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 Ok niente Ci sarà comunque Qualcosa Per pagare Cioè paghi E cerchi la carta Altrimenti vabbè Ma noi per il momento Ok abbiamo ottenuto La prima carta La seconda Non credo a questo punto La faremo mai Ma comunque Alexa Bliss Di questa missione Ce l'abbiamo Io già la porto A livello massimo Perché comunque Ci fa comodo In tanti deck Quindi Vediamo queste belle Tre cartette E vediamo un attimo Bam Cento di livello Cinque milioni e quattro Ragazzi è diventato forte Quanto Sonia di Vil Se non di più Perché deve anche Giorare gli incontri Dove sta? Eh è più forte Vedi? Di poco Ma è più forte Yeah Yeah E a questo punto Il nostro livello È rimasto più o meno lì Nemmeno tanto Abbiamo perso Uno slot impeto Va bene E niente E regà Quello che possiamo fare Potremmo anche andare avanti In Indomination Per tentare anche Prendirci il cozzone Ma non mi interessa Perché tanto Come ho detto prima Non giocherò La prova del prossimo evento In flash Tutto glory Per ottenere lui Perché tanto Non è inutile ci arrivi O devo giocare Prendi a stenti Proprio Casino Anche perché il livello Qual è Vediamoci un attimo Giusto per Giusto per Rotto glory Autoriempimento Siamo Non siamo neanche A Vestlemente Quindi potenzialmente Potremmo arrivare Alla carta Royal Rumble 21 E vincere a punti da 3 Potremmo tentare lo stesso Ma non so Adesso vediamo domani sera Quali ci sono le carte in evento Altrimenti Niente Così non ci sono neanche a spendere I crediti Quelli che sono Insomma E ok Vabbè Raga Io direi che per questo video Ah non vi ho fatto vedere Eh vedi La nostra prima carta fusione Eh Prima carta fusione Che non mi ricordo Era uomo Era donna Non lo ricordo Battista Signori Battista Fusione Vrestling Mania 37 La nostra prima Carta Fusione 5 linee 3 Anche lui è andato In qualche deck Sicuro Ragazzi Queste sono le nostre carte Uomini Vrestling Mania Donne Siamo a quota 4 E Yeah Very good It's good Ok Raga Io direi che Possiamo nuvolare questo video Nient'altro da fare Quello che dobbiamo fare L'abbiamo fatto Abbiamo pescato Dal pacchetto Dilex a bliss Purtroppo niente pro Ma vabbè Dino su dei momenti Se anche voi Ti avete ampliato la missione E Se siete riusciti A prendere anche la seconda copia Altrimenti Raga E Nulla da fare Ciao a tutti Ci vediamo come al solito In un prossimo video Ciao a tutti Raga Ciao a tutti